buongiorno ok ci vedete molto 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 scure sono le vediamo che sono sono le sette del mattino e la signorina qua è sveglia dalle 6 e mezzo anche prima forse mio marito è andato a lavoro lei ha già bevuto il suo lattuccio caccia ciao con la manina dove aspetti fargli vedere tetti oggi probabilmente scusate ma non so come mettermi la luce entra ma non arriva oggi andremo al mercato credo quindi adesso ci alziamo e ci prepariamo e dopo aiuto quanto pesi? dai va bene scendi ok ho appena fatto colazione con una fetta di pan integrale perché sto a dieta qua c'è la buccia aspettate un attimo vieni vieni Clos guarda che c'è qua sopra le costruzioni ci stanno vorrò non scrivere il tavolo eh no chiudi guarda cosa c'è qua le costruzioni ci sono in casa c'è un macello macello c'è un casino proprio la mattina Chloe era di no 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 Chloe vestiamoci? no Chloe andiamo al mercato? no no e quando no è no eh dimmi che cazzo c'è la Chloe ma di che è spinta la faccia? no vabbè aspettate aspettate il lato lato da la 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 l'ho la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi siamo stati al mercato, ho comprato i calzini e li ho trovati 3 paia 1 euro, quindi ne ho presi 9 paia, cioè 6 per mio marito e 3 per me, perché io altri 3 li avevo presi al negozio l'altro giorno, quindi ne ho presi solamente 3 paia per me. E poi ho preso una magliettina a mio marito troppo troppo carina con la taschina qua sul petto, diciamo, militare, bellissima, di bianca la magliettina e la taschina è militare. Vabbè, io adesso faccio anche un riposino, dopo penso che andrò a fare la spesa, non lo so. Sto trucco fa veramente cagare oggi. Buon riposino a noi. Ecco la mia merendina e ho deciso di mangiare uno yogurt alla pera che ho messo in questa ciotolina troppo troppo carina. E poi ci ho messo i miei musli con i pezzetti di cioccolato fondente e la frutta secca buonissima. Ma cosa fai? Ma cosa... Bumma! Cosa fai? Dov'è il cavallino? Sali sul cavallino, dai! Sali sul cavallino, andiamo là! Mettiamo la tv? Eh, Chloe, c'è una canzoncina! Canzoncina! Sali, dai! Sali! Dai! Tu hai da un minuto! Sali! Noi... Lui è ancora in un sito da lavoro. Noi stiamo andando a fare un po' di spesa E nulla Sono stanca Niente, ci vediamo dopo Noi... Noi... Tu hai da un minuto! Di in un minuto! Senti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, è ora di cena. Ne ho mangiato il mio salmone fatto in padella con il pepe, il limone e l'olio. E poi l'insalata con due fettine di uova integrale tostato. Buonasena. E poi l'insalata con due fettine di uova integrale tostato. E poi l'insalata con due fettine di uova integrale tostato. Stai andando a letto? Sì, io te l'avevo comprato. Chloe, dai a Nini. Sali. Vai a letto, amore. Dai, vai a letto. Dai, mettiti sotto le coperte, Chloe. Mettiti sotto le coperte. Dai, vieni qua. Mettiti sotto le coperte, dai. Dai. Sotto le coperte, vai. Ops, dai. Dai. Vai sotto le coperte. Dai. Dai, fai Nini. Copriti. Copriti che fa freddo. Ti copri, mamma, dai. Teddy dov'è? Dov'è Teddy? Aspetta. Mi sa c'hai in faccia. Buonanotte. Ok ragazzi, mi sono lavata. Mi sono anche struccata. Certe volte penso che struccata io stia meglio, però poi non so resistere proprio, perché c'ho tantissime bollicine e non so bene come coprirle anche col fondotinta, perché non mi si coprono, o saranno sti fondotinta scadenti, o io non lo so. Comunque mi sono struccata, mi sono lavata, ho delle sopracciglia che sembro, mamma mia, sono orribili. Sì, la pupa è qua, ancora non si è addormentata, però c'è tanto sonnino. Eh sì, è con Teddy. E niente, io adesso vado a letto. Niente, io e la pupa vi diamo la buonanotte, così adesso monto questo video, sì, è la mia fotocopia, oh Dio scusa amore, è la mia fotocopia, è uguale a me, e niente, io e la mia pupa vi diamo la buonanotte, così io vi monto questo video, e domani lo troverete già online. Buonanotte, ciao! Saluta amore, fai ciao! Fai ciao con la maglina! Dai, saluta! Buonanotte! Mua! Buonanotte! Come? Buonanotte! Gustavo è competente! Buonanotte! 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 Grazie a tutti.